La Rumner House, che è situata a Kenes in Alto Adige, produce dal 1964 case in legno. Quindi quest'anno festeggiamo un compleanno molto particolare, 50 anni di attività, e quindi in questo lungo cammino ci siamo meritati proprio la leadership in Italia nella produzione di case in legno. Abbiamo da sempre dato tutto il nostro amore, la nostra passione per la costruzione di un ambiente più sano, quindi oggi il consumatore finale gode soprattutto qualità ed efficienza energetica. Ovviamente in questi lunghi anni di attività abbiamo sempre dato un occhio particolare all'evoluzione delle tecnologie di costruzione, di produzione e di montaggio. La Rumner House nel 1964, quindi parlo di 50 anni indietro, è nata proprio con questo sistema Block House. Quindi i vecchi zii Rumner sono partiti ad imitare il cosiddetto maso tirolese. Quindi cosa si faceva? Si tagliava il tronco in queste specie di Block Bowlen, e quindi questi Block Bowlen sono stati montati sempre in una maniera orizzontale, e quindi il vantaggio di questo sistema Block House è proprio di riprendere la natura, e con la natura creare un'atmosfera di abitare. Quindi negli anni 80-90 soprattutto abbiamo cercato di rinnovare le nostre tecnologie e il nostro prodotto, quindi abbiamo inserito nella nostra collezione delle case in legno il cosiddetto sistema a traliccio a telaio, quindi un telaio in legno, pilastri incolati, mentre per la coimentazione e soprattutto per il calore, noi da sempre impieghiamo materiali che possa essere o il sughero o la fibra di legno, e verso l'esterno si applica una specie di intonaco. Così tutta la parete diventa un polmone naturale, che cede e dà sempre l'umidità e un'atmosfera e un clima sostenibile. In occasione del nostro compleanno ci siamo chiesti ma cosa potremmo regalare a tutti i nostri numerosi clienti in tutta Italia al mondo dei progettisti? E quindi abbiamo detto noi vorremmo visitare i nostri clienti, i nostri futuri clienti in loco. Quindi abbiamo inventato questa specie di TIR, quindi diventa un ufficio, un'aula volante, e quindi andiamo ad offrire al mercato un percorso educativo, un percorso formativo e infine se vogliamo anche un percorso culturale. Quindi vogliamo trasmettere il segreto di un costruire all'avanguardia, un sistema costruttivo che come fine ciclo presenta il benessere, quindi un ambiente sano e futuro per i nostri clienti. Grazie per la visione!